Ciao a tutti, la data che dovevamo fare il 4 gennaio inizialmente a Chiarano in provincia di Treviso non l'abbiamo più fatta a Chiarano perché appena hanno sentito il nome di Povia, soliti pregiudizie. Allora l'abbiamo spostata a Sandona di Piave in provincia di Venezia, ma anche lì quando hanno sentito il nome di Povia non ci danno il posto neanche lì, sempre con i soliti pregiudizi. Adesso stiamo cercando un altro posto per il 4 gennaio, lo troveremo, però ogni volta è sempre la stessa cosa su questo nome di Povia. Io spero che un domani arriverà anche il mio momento perché io non sono una persona libera, però sono sano di mente quindi ogni volta che io dico faccio qualcosa o canto qualcosa non è che lo faccio a caso. Mi sta un po' sulle palle questa cosa che ogni volta che esce il nome di Povia c'è sempre qualcuno che storce il naso. Capisco che non possiamo essere d'accordo su tutto, però negare uno spazio è veramente da democratici, guardate. Meno male che il Covid doveva farci diventare tutti più buoni, compassionevoli e ragionevoli. Avete rotto il cazzo, buon Natale e buon anno.